Assessore Santavendere, oggi il Comune di Montesimano presenta questo potenziamento dei servizi sociali, peraltro in un momento molto delicato perché si sa che il Covid ha assorbito molte energie, però bisogna pensare alle fasce deboli. Il Comune lo sta facendo come? Già il Piano Nazionale sulla povertà 2019-2021 aveva previsto questo potenziamento di questo rapporto tra numero di abitanti e numero di assistenti sociali da 1 ogni 6.500 abitanti, ma la legge di bilancio ha voluto potenziare proprio in vista di questa situazione di critica sociale da 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti. Ovviamente l'amministrazione attraverso l'azienda speciale ha avviato questo percorso già alcuni mesi fa dovendo ovviamente adottare un nuovo fabbisogno del personale, un piano triennale del fabbisogno del personale quindi con tutte le procedure necessarie. Ma c'è da dire anche un'altra cosa che l'azienda speciale è uno dei pochi esempi in Italia ad aver avviato procedure telematiche per evadere tutte le procedure concorsuali e quindi ovviamente rispettando quelle che sono le normative anti-Covid. Quindi è stato un lavoro ovviamente di squadra e io ringrazio l'azienda speciale nella persona del direttore Donatelli ma ovviamente anche di tutto lo staff che lo ha accompagnato in questo percorso con i capi area che appunto si sono molto impegnati, hanno creduto in questo lavoro che ha portato a questo obiettivo di dare alla città di Montesilvano un supporto di 13 assistenti sociali che faranno appunto la differenza in un momento così di vero difficile. Con grande soddisfazione oggi presentiamo queste nuove assunzioni che oltre a rappresentare qualcosa di importante nell'ambito del mondo del lavoro rappresentano anche un qualcosa di importante per quello che riguarda il rispetto della legge finanziaria. Il Comune di Montesilvano grazie all'azienda speciale che ha avuto incarico dal Comune è riuscita a rispettare tutto quello che era previsto ed è l'unico Comune degli ambiti territoriali ebruzzesi oltre che uno dei pochi a livello nazionale ad aver appunto concluso questo ITER e portando nuove risorse in un campo importante come quello del sociale in un periodo peraltro come quello che stiamo vivendo.